Io ho subito visto Giorgino in tribù, partiamo da lui. Giorgino ha avuto un pestone in allenamento, pensava a quello che ce la facesse, invece il domenica mattina non riusciva più neanche ad approcciare il piede. Per cui oggi abbiamo fatto degli accertamenti, vedremo, vedremo, perché ognuno ha dei tempi diversi, speriamo il nostro, e ci crediamo il nostro spazio sanitario cercherà di regolarlo quanto qui, però non posso dire, io spero che le do di baseball, però non è detto. Nocciolini, pure lui, ha avuto qualche problemina, c'era una 10-15 in giorno, Munari un po' più importante, in tre settimane vedremo, questo lazzarento non basta, anche se no, venite a no, Scaglia ha avuto un problema, non ha un botto, speriamo, perché noi abbiamo oggi e domani il riposo, anche se tutti hanno fatto già gli accertamenti, per cui qualcuno viene fuori, però voi gli si dobbiamo fare gli accertamenti, se non parla, è già iniziato per terapia.